Luca Onestini Luca Onestini Guarda un po', l'argomento è poi finito sulla prima notte d'amore, chi attende gli inquilini della casa più spiata d'Italia una volta usciti dal reality, andiamo a scoprire tutto. Grande fratello Bip, Luca Onestini, Paola Caruso Special Guest, Bossari, visto il feeling amichevole, che scorre tra Luca Onestini e Raffaello Tonon, durante la cena a GFB, ha lanciato l'idea di un format radio televisivo da proporre a una casa di produzione con protagonisti proprio gli Onestoni. Tra le idee del conduttore di mistero, anche quella, in un'ipotetica trasmissione, di ospitare personaggi dello spettacolo, a questo punto l'ex tronista, memore dell'aereo spedito nei suoi confronti della Bonas di avanti un altro, ha esclamato, Paola Caruso Special Guest. Insomma al bel bolonese quel regalino della show girle è proprio piaciuto e soprattutto gli è rimasto proprio in testa, tra una chiacchiera e l'altra è poi partito un brindisi sulla prima notte d'amore, Chi attende gli inquilini una volta finito il reality è, Daniele e Luca, idee sulla prima notte d'amore dopo il GFB, Bossari, sempre curioso e sempre carico di domande interessanti, ha chiesto a Luca cosa ha intenzione di fare la prima notte dopo il GFB, Luca, la prima notte d'amore. Speriamo presto, io sono single, ha replicato Onestini, facendo scrosciare i commenti degli inquilini circa le sue tante spasimanti, buona scompresa, Daniele invece è un po' timoroso, magari è flat totale, ma povera Filippa, ha ribattuto sempre Luca. A dir la verità, dopo aver visto la fuga di lune discorso del conduttore durante l'incontro con la compagna, pare che le sue paure non siano del tutto fondate.